E ciao a tutti ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video innanzitutto vi auguro un buon giovedì mattina a tutti Michael Saylor ha acquistato nuovamente Bitcoin e lo ha reso pubblico proprio nella giornata di ieri inoltre in questo video oltre all'ultima news relativa al mercato cripto volevo riportarvi un grafico molto interessante su dei pattern o soprattutto sull'andamento che si sta presentando attualmente nel 2023 su Bitcoin in relazione agli scorsi cicli sempre di Bitcoin infatti abbiamo dei pattern molto molto simili a quelli che si sono già presentati in passato proprio su Bitcoin prima però da andare a vedere tutto nel dettaglio ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso perfetto non perdiamo il tuo tempo e passiamo con la visuale allora ragazzi partiamo con i dati di carattere fondamentale che usciranno durante la giornata di oggi infatti essendo ovviamente la settimana di Natale non abbiamo chissà quali dati però oggi diciamo che ci sono due dati interessanti che dobbiamo tenere sott'occhio che sono l'initial jobless claims sempre in zona statunitense inoltre abbiamo i pending home sales pending home sales che ragazzi ci danno diciamo una visione un andamento su come si sta comportando ovviamente il mercato immobiliare in zona statunitense passiamo però a un grafico molto molto interessante che vi volevo proporre stamattina ed è il grafico dell'M2 che si sta contraendo ai livelli più profondi dal 1960 qui abbiamo uno storico ovviamente che va a prendere in considerazione l'andamento dell'M2 per chi non lo sapesse l'M2 rappresenta la quantità di denaro in circolazione non sta prendendo in considerazione solo l'euro non sta prendendo in considerazione soltanto il dollaro americano ma sta prendendo in considerazione tutti i contanti al mondo ma non solo infatti sono compresi i contanti depositi di controllo e risparmio e altri depositi che ovviamente sono facilmente liquidabili e convertibili in denaro in moneta fiat insomma per intenderci possiamo vedere come all'inizio proprio del 2019 abbiamo assistito un po' anche complice per il covid e di conseguenza le banche centrale hanno deciso di stampare denaro come se non ci fossero domani e ragazzi non è esclusa quasi nessuna banca centrale abbiamo visto come l'M2 ovvero il cumulativo proprio di queste monete fiat in circolazione fosse salito repentinamente fino ad un dato dell'incirca il 27% ovviamente qui sta prendendo in considerazione la percentuale di cambio rispetto all'anno precedente dopo una rapida decrescita dovute anche a tutte le manovre che hanno fatto la Federal Reserve la banca centrale europea insomma tutte le grandi banche centrali per sconfiggere le inflazioni delle varie monete ma soprattutto ovviamente per ridurre di conseguenza il denaro circolante dai mercati possiamo vedere che proprio negli ultimi mesi del 2023 abbiamo assistito ad una piccola piccolissima ricrescita ovviamente siamo arrivati a una contrazione molto importante siamo arrivati addirittura almeno 5% ma soprattutto possiamo vedere che in questo caso negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una piccola ricrescita proprio di questo dato piccola ricrescita che ci fa capire almeno in modo indiretto come questi capitali si sono riversati anche sui mercati a riscon di conseguenza e questo l'abbiamo visto sia sul mercato cripto e ovviamente in rapida salita sia ovviamente anche sui mercati tradizionali della finanza tradizionale immaginatevi ragazzi quando la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi e in un secondo momento stimolare l'economia quanto potrebbe impattare questo sui mercati a riscon passiamo con la notizia cardine ovvero MicroStrategy ha acquisito 14.620 Bitcoin per un equivalente di circa 615,7 milioni di dollari questi acquistati a un average price ovvero un prezzo medio di 42.110 dollari per Bitcoin questo acquisto è stato fatto da MicroStrategy il 2612 ovvero il 26 dicembre e adesso MicroStrategy detiene 189.150 Bitcoin per un equivalente di 5,9 miliardi di dollari ragazzi ovviamente qui possiamo vedere anche il prezzo medio che è nettamente basso rispetto a quello che possiamo vedere oggi che è 31.168 ragazzi stiamo parlando di un equivalente in Bitcoin veramente enorme una mia piccola opinione, una mia piccola riflessione è che non sempre e non necessariamente questa situazione che si sta creando ormai già da tempo ovvero che MicroStrategy sta diventando sempre una whales o meglio una delle più importanti whales possa andare a influenzare il mercato perché sapete che qualora MicroStrategy vendesse parte delle sue quotazioni magari per scaricare un po' di profitti eccetera eccetera come è normale che sia però ragazzi innescherebbe su il mercato un sell off di massa e soprattutto un panico di massa volevo prendere anche in considerazione l'holder ratio sia di Bitcoin che Ethereum perché pare che negli ultimi tempi gli Ethereum holder abbiano flippato quelli di Bitcoin qui stiamo prendendo in considerazione i long time holders che detengono appunto gli Ethereum in saccocia nei propri wallet da più di un anno e possiamo vedere che per la prima volta nella storia in realtà abbiamo avuto questo flipping tra il 2018 e il 2019 però non è riuscito a mantenerlo staremo a vedere appunto se questa volta invece è la volta buona per Ethereum che sovrasterà a seconda di questa metrica proprio Bitcoin volevo riportarvi anche questo grafico che è molto molto interessante che prende in considerazione la correlazione tra Bitcoin e le tech stock per quanto riguarda ovviamente questa tipologia di correlazione siamo finalmente arrivati allo zero e potremmo assistere ad un futuro che si parla ovviamente di settimane barra mesi se continuiamo questa tendenza di una scorrelazione del mercato crypto rispetto al mercato delle tech stock speriamo ovviamente che il mercato crypto continui a salire invece a viceversa che le tech stock in realtà ricorreggono e non il contrario però comunque sia sapete benissimo quanto per Bitcoin sia importante ovviamente nel lunghissimo termine andare a staccarsi dalle tech stock e comportarsi sempre di più come un venere di fucio per esempio l'oro ok per adesso ragazzi è inequivocabile che Bitcoin si sta comportando assolutamente molte delle volte come una tech stock invece come ho detto anche nell'intro volevo riportarvi questo grafico grafico che prende in considerazione l'andamento dal picco massimo di Bitcoin del 2015 fino a tutto il suo ciclo rialzista ok fino al top successivo vedete in realtà come Bitcoin stia presentando uno scenario molto molto simile a quello del 2015 abbiamo praticamente l'euforia dopo l'euforia abbiamo assistito a vari dump del mercato poi abbiamo la compliancy subito dopo abbiamo avuto dei grossi sell off di mercato precisamente ne abbiamo assistiti due per entrambi i cicli sia nel ciclo del 2023 sia nel ciclo del 2015 ragazzi vedete come questo scenario possa essere molto molto simile attualmente secondo questa ricerca secondo questa analisi e ragazzi mi raccomando non prendetela come se fosse oro colato ci troviamo nella fase di hope o meglio potremmo trovarci a breve nella fase di hope qualora avvenisse un ultimo pump che porti appunto il prezzo di Bitcoin all'incirca verso i 50.000 dollari 48.000 circa ok che è anche uno dei livelli più importanti che Bitcoin deve andare a raggiungere nel futuro di breve termine ovviamente se vuole mantenere questo impulso rialzista degli ultimi tempi dopodiché ragazzi se seguiamo alla lettera ovviamente questo andamento potremmo assistere a un bel capitombolo per poi partire definitivamente verso un bull market il reale bull market a mio modo di vedere perfetto ragazzi andiamo a vedere cosa sta succedendo all'interno del mercato delle criptolute possiamo vedere che nelle ultime 24 ore abbiamo un mercato molto molto positivo infatti abbiamo BSB che guadagna un 51,7% il token di Arbitrium un 21,2% Aave un 24,8% comunque sia possiamo vedere che quasi tutte le bolle stanno performando e anche decisamente bene tra una spicca tutte ovvero BNB BNB possiamo vedere che sta guadagnando nell'ultima giornata un 11,7% in sole 24 ore praticamente ha recuperato con gli interessi la situazione ovviamente del Department of Justice vi ricordate quando appunto CZ era stato costretto a dimettersi, pagare la multa eccetera eccetera abbiamo recuperato non soltanto i livelli che eravamo in quella situazione ma abbiamo superato anche dei livelli molto interessanti soprattutto verso i long ma andiamo a vederla brevissimo passiamo con il vedere con la visuale appunto su CoinMarketCap perché voglio mostrarvi Bitcoin ed Ethereum Bitcoin ragazzi nelle ultime 24 ore guadagna un 2,10% assestando il proprio prezzo a 43.300 dollari Ethereum allo stesso modo guadagna il 7,57% nell'ultime 24 ore assestando il proprio prezzo a 2.400 dollari che significa 2.400 dollari per Ethereum? significa che abbiamo superato i massimi annuali ciò vuol dire che durante questa notte abbiamo contrassegnato un massimo annuale che si trova all'incirca in zona 2.445 nel momento in cui sto registrando ovviamente sto leggermente ricorreggendo ma per quanto riguarda Ethereum ragazzi con l'analisi ritorniamoci tra brevissimo andiamo a vedere però Bitcoin Bitcoin come si sta comportando vi dicevo ragazzi attenzione perché eravamo in questa situazione ieri dove vi dicevo se dovessimo confermare una chiusura al di sotto di questo livello potremmo andare a ritestare senza problemi la zona dei 41.000 dollari fino ai 40.600 dollari circa perché possiamo vedere che attualmente proprio a partire dal 4 dicembre 2023 per tutto dicembre praticamente stiamo assistendo a 4 punti di reale interesse quelli rossi che sono le due pareti estreme di questo periodo di congestione che stiamo vedendo proprio su Bitcoin invece abbiamo due livelli intermedi ai quali possiamo vedere ha reagito più e più volte all'interno di questo mese ovvero i 43.100 dollari e possiamo dire anche i 42.063 dollari adesso durante la giornata di ieri abbiamo performato di un 2% come abbiamo visto anche prima abbiamo sfondato questa linea mediana dal basso verso l'alto presentando ovviamente una forte domanda nell'ultima giornata per quanto riguarda Bitcoin che però ovviamente gli ha permesso sì di andare a superare la zona mediana dei 43.000 dollari che la sta ritestando esattamente in questo momento però ragazzi non abbiamo avuto la forza per andare a ritestare i massimi superiori volevo mostrarvi un pattern che probabilmente nella prossima settimana vedremo confermato per la prima volta nella storia all'incirca il 6 febbraio 2023 abbiamo assistito a un death cross sul weekly death cross che come possiamo vedere la media mobile a 50 periodi ovvero che la media mobile più veloce ha rotto dal basso verso l'alto preassegnando un periodo ribassista che poi in realtà non è avvenuto come potete vedere anche perché diciamo che questi pattern vanno presi sì in considerazione ma vanno presi un pochino anche con le pinze perché molte delle volte sono anche in ritardo però come possiamo vedere ragazzi stiamo assistendo allo scenario opposto ovvero a un golden cross dove la media mobile esponenziale a 50 periodi sta rompendo dal basso verso l'alto la media mobile a 200 periodi ok quindi ragazzi attenzione perché sta avvenendo o sta per avvenire appunto questa tipologia di pattern tornando su Ethereum, Ethereum nella giornata di ieri ci trovavamo esattamente in questa zona ok dove vi dicevo ragazzi io prima voglio vedere la chiusura daily chiusura daily che come possiamo vedere abbiamo rotto con una bella respinta e una bella reazione ovviamente dei buyers in questa zona ok perché infatti come abbiamo visto c'era un canale discendente rotto, ritestato e poi vi dicevo attenzione perché se dovessimo avere una chiusura all'interno di questo canale potremmo vedere una continuazione verso di basso tuttavia potrebbe essere con una presentazione di domanda cosa che abbiamo visto proprio anche sul 4 ore, sull'orario ma anche sul daily perché abbiamo visto questa grossissima shadow che poi ci ha portato verso l'alto infatti è stato un ritest proprio come avevamo visto nel video di ieri adesso staremo a vedere un po' come si comporta perché pare che esattamente in questo momento Ethereum stia testando i massimi annuali precedenti massimi annuali precedenti che si trovano all'incirca a 2384 dollari staremo a vedere appunto se rientra all'interno di questo range l'importante è che non sfonda la zona dei 2336 anche se da qui in poi per 1-2 giorni va a lateralizzare non sarebbe proprio malissimo tuttavia la situazione cambia qualora invece dovremmo nelle prossime ore, nei prossimi giorni andare a riassorbire buona parte di questo pump e di questo terreno che siamo riusciti a recuperare appunto nelle scorse ore prendendo in considerazione anche la liquidation heatmap per quanto riguarda Bitcoin possiamo vedere che proprio come avevamo visto nella puntata di ieri siamo andati a raggiungere i livelli di liquidazione all'incirca a 43.255 dollari molto interessante perché potete vedere come vi ho sempre detto che queste zone sono zone di calamita per quanto riguarda il prezzo nel breve termine infatti ragazzi adesso la zona più importante ne abbiamo due in realtà la zona dei 44.000 dollari che corrisponde anche un po' all'incirca con i massimi annuali di Bitcoin e andando a prendere in considerazione invece una parete inferiore sono i 41.566 dollari perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video mi raccomando se non l'avessi ancora fatto ti lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare a iscrivervi ai vari crypto exchange che io stesso utilizzo per andare a fare il training attivo sui mercati se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendo dal canale stesso fammi sapere se secondo te invece il grafico che abbiamo appunto assistito tra il confronto dell'andamento di Bitcoin tra il 2023 e il 2015 possa essere plausibile per gli iscritti invece noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao